Formazione che rientrano in campo, gentili ascoltatori, ovviamente parliamo di Caltagirone e Biancavilla in questo turno infrasettimanale del campionato di eccellenza. Oggi mercoledì 7 febbraio 2018, 0 a 0 il parziale. Dopo il primo tempo quando, se volete, la formazione vicecapolista si è resa protagonista di un maggiore possesso palla sulla trequartia di avversaria, ma di fatto è stato soltanto uno l'intervento difficile operato dall'estremo difensore Polessi. Ma vediamo che mister Napoli del Biancavilla ha già effettuato una prima sostituzione, cercheremo di capire chi è che è entrato in campo e al posto di chi. E' il numero 16 Randis, dunque rinforza la linea offensiva, il tecnico giallo-blu, ma c'è anche un altro giocatore, dovrebbe trattarsi di Maimone. Quindi doppia sostituzione già all'inizio del secondo tempo. Intanto pronto, fischietto in bocca, inizia la ripresa, sempre agli ordini, il signor Singh di Macerata. Parisi. Diop, servito da russo, quindi indelicato. Delicato, il neo è entrato Maimone, ancora russo, da dietro si riparte Chiavaro Parisi. Russo, allarga sulla destra, Caruso, Parisi. Parte il lancio a cercare l'inserimento del neo è entrato, anzi no, si trattava di Caruso, sempre molto abile a inserirsi dalla fascia destra, ma la palla è facilmente recuperata da Polessi. Di controbalzo, il portiere Calatino, verso la trequarta avversaria. La testa di Abdullai, quella di Susso, tenta l'aggancio Abdullai, ma c'è l'anticipo di Parisi a lanciare lo scatto di Genovese. Giarratana viene toccato, famosamente messo a terra dal numero 10 in casacca blu, punizione a favore del Caltagirone. Quindi, se prima i due attaccanti erano Lucarelli e Genovese, adesso sono Genovese e Randi. Siamo attenzione a questa buona sponda di Abdullai che mette in movimento a Floridia, quindi servizio per Navanzino. Sbaglia però il controllo, capitano Ruscica, attenzione, contro l'attacco del Biancavilla, con palla recuperata da Randi. Randi cerca di accentrarsi, la gioca bene sul russo. Si fa vedere e riceve Guerriera, Guerriera a destra per Caruso, ferma tutti Giarratana. Navanzino, di prima, a cercare l'intervento di Abdullai che fa la sponda buona per Floridia. Floridia porta palla, viene inseguito da Russo, poi l'esterno destro che non passa. Fa buona lettura dell'azione qui Parisi che ha regolato valla per il Biancavilla, che va nuovamente all'impostazione offensiva. Ancora Parisi. Il numero 6, con calma, a destra, su Guerriera. La sponda di Caruso. Quindi Russo attaccato d'Alma. Interviene Diop, allarga bene sulla sinistra per lo smarcato Indelicato. Va a chiudere ancora. Alma viene saltato però, attenzione, buona la giocata di Indelicato. Poi ferma tutti. Italiano ma sbaglia il disimpegno. Il rompe Susso che scraventa la palla praticamente in zona telecamera. Ma siamo salvi. Pronto intanto Diop per questa rimessa in gioco a favore della formazione ospite. Tre minuti di gioco nel corso di questa ripresa. Ricordiamo per quanto si fossero posti alla visione d'ascolto in questo momento. Sempre 0-0 tra Calta, Girone e Biancavilla. E' diventato più numeroso intanto il pubblico presente qui sulla tribunetta del Pino. Buongiorno, servito Indelicato. Lo ferma molto bene Amadou che sta giocando una buona partita. Alma la gioca a raso terra. In qualche modo il ripallo favorisce. Nel avanzino che riesce a servire lo scatto a destra di Abdoulaye. Corpo a corpo con Diop che lo spintona, lo mette a terra. L'arbitro dice che l'azione è regolare ma potevano esserci gli estremi per un piazzato a favore del Calta, Girone. Rimessa in dato effettuata dal Biancavilla. Il servizio raggiunge Indelicato attaccato da Navanzino. Indelicato va la meglio, riesce a servire il neo entrato Maimone. Poi il suo passaggio che non passa lo intercetta Abdoulaye. Abdoulaye mantiene il possesso della palla fra due avversari. Finisce a terra Abdoulaye e alla fine fischia l'arbitro che ha ravvisato non so quale fallo di Abdoulaye. Punizione ciò per tutta. Attenzione alla ripartenza tentata da Parisi con questo rilancio nella zona di Randis. Che interviene sulla palla ma la devia direttamente in fallo laterale. Sembra un attimino più frizzante il gioco in questo avvio di ripresa. Intanto sul punto di battuta come sempre da quella parte c'è Buttiglieri. Lancia lungo in avanti a cercare. Abdoulaye anticipato bene da Parisi. Doma il pallone russo. Quindi Diop. Servizio che raggiunge Maimone. Maimone attaccato Dalma. Maimone resiste la carica. Poi viene stratonato dal giovane generovista Galatino. Ed ecco accordato il piazzato a favore del Biancavilla. Dunque ribadiamo nell'inizio della ripresa. Mister Tommaso Napoli ha mandato in campo rispettivamente Randis e Maimone al posto di Strano e Lucarelli. Quindi sono entrati un centrocampista e un attaccante. Quindi di fatto nulla è cambiato nello schieramento tattico della formazione vicecapolista. Due uomini in barriera sono Alma e Navanzino. Sul punto di battuta c'è Maimone. Il fisco dell'arbitro parte il sinistro sul secondo. Pallo. Palla pericolosa. Quei pugni allontana. Ottimo l'intervento qui di Polessi. La palla viene raccolta da Russo. Dunque resta in possesso palla la formazione ospite sulla corsia di destra. Riesce a servire questo inserimento di Caruso. Caruso si porta verso il fondo. Va a fare il tecle. Scivolato in maniera eccellente. Giarratana e poi perfezione di disimpegno in out. Sussò rimessa già effettuata. Ancora Parisi a scodelare verso il limite. La testa di Giarratana da allontanare. Il corpo di destra di Abdullai riesce a servire. Floridia. Ottimo il controllo del numero 11. Floridia subito accerchiato da avversari. Mantiene abilmente il possesso della palla. Il rimpalo che favorisce. Ruscica. La verticalizzazione. Vede Abdullai e sfuma questa chioda opportunità di contropiede a favore del Caltagirone. Nulla di fatto. Cinque minuti e mezzo. Zero a zero. A destra l'impostazione offensiva del Biancavilla. Russo. Il servizio con la sponda buona di Genovese che ha scambiato con Caruso. Ancora Genovese che si involla verso il limite avversario. Va a chiudere Navanzino. Navanzino attaccato da Genovese. Ottima la difesa del pallone del numero 7 Biancorosso. E poi in fallo laterale italiano. Rimessa dunque l'attacco a favore della formazione giallo-blu. Indelicato si incarica della battuta. Poi cede a sua volta l'incarico a Diop. La sponda di Maimone. Anzi sì. E poi la deviazione ancora di Ruscica in out. Altra rimessa a favore del Biancavilla. Ancora Diop sul punto di battuta. Lo scambio. Ma è irregolare dice l'arbitro. La rimessa effettuata dal forte difensore del Biancavilla. La rimessa stavolta è a favore del Caltagirone. Amadou. Lancio nella zona di Navanzino. Stoppa preciso il pallone. Poi però se lo trascina fuori. Rimessa già effettuata da Maimone. Che mette in movimento Capitan Russo. Che allarga il gioco sulla destra. Dove c'è spazio per Caruso. Che stoppa il pallone. Chiama a rinforza. Si ritrova nella corrente Parisi. Parisi ancora per il vicino Russo. Russo la gioca a terra. Beneficio di guerriera. Ottima la triangolazione con Parisi in posizione dalla destra. Parisi cerca il varco per il traversone. Poi palla dietro il traversone. Invece di Russo la testa di Italiana. Però non è che si impenna. Quella di Giarratana. Ancora però Biancavilla in attacco. Il controllo di Maimone che ha scambiato col capitano. Poi ancora si inserisce Randis. Raddoppiato e fermato. Irregolare l'azione. Amadou, Floridia, Butiglieri. A lanciare lungo in avanti. Ma troppo largo. Con palla che si spegne in fallo laterale. Non può dunque intervenire Abdullahi. Pronto guerriera per la rimessa laterale. Effettuata Beneficio di Caruso. Palla toccata da Butiglieri in out. Altra rimessa. Giallo-blu. Parisi. Si riparte da Chiavaro. Lancio nella zona di Maimone. L'anticipo di Amadou. Ottimo servizio per Navanzino. Va in tribring. Salta un avversario. Porta palla il numero 7. Viene subito accerchiato. Poi finisce a terra. E alla fine perde il pallone. Attenzione. Il servizio raggiunge Randis. L'apertura a destra per lo scatto di Caruso. Velocissimo entra in area. Il cross è la sua terra. Si allunga a terra. E blocca il pallone Poles. Azione veloce di contrattacco pericolosa. Della formazione vicecavolista. Fermata dal portiere Calatino. Che adesso di contro Pazzo. Rilancia lunghissimo nella zona di Abdullahi. Colpo di testa di Chiavaro. Il rimbaro che fuorisce Sussò. Sussò attaccato da Russo. Riesiste alla carica in materia di processo della palla. Quindi Buttiglieri, Giarratana. La palla nella zona di Florida che viene anticipato molto bene da Maimone. Poi Amadou che anticipa Genovese Italiano. La sponda precisa ma si alza attenzione alla bandiera dell'assistente. Arriva a rilevare l'offside di Abdullahi. E viene dunque assegnato il calcio di munizione a favore del Biancavilla. Nono minuto della ripresa. 0-0 tra Calatigirone e Biancavilla. Capitan russo. Diop. Si riparte da Chiavaro. Va pressing Abdullahi. Quindi la sponda di Maimone. Riesce a servire Russo. Il servizio poi fermato molto bene da Amadou. Amadou la tiene in campo ma non trova i compagni. Ancora Chiavaro a sventagliare subito a memoria a sinistra. Ma stavolta non c'è nessuno. Era rimasto molto indietro indelicato. E la palla si perde in fallo laterale. Fanno pressing alto però adesso qui gli uomini di Mister Napoli. Su questa rimessa a favore del Calatigirone. Amadou la gioca bene su Italiano che rinvia direttamente in fallo laterale. Diop sul punto di battuta. Il controllo preciso di Genovese la dà ancora Diop. Diop va in dribbling. Salta di tre avversari pericolosamente. Si porta al limite. La dà in fondo. Indelicato la mette in mezzo. Ci mette una pezza qui. Butiglieri che si rifugia con questo disimpegno. Mantiene la palla in campo. Amadou la riconquistano ancora quelli del Biancavilla. Si riparte da Chiavaro. Parisi. Subito il lancio verso il limite. Il rompe Amadou che sta giocando una gran partita deviando in fallo laterale. Pronto e indelicato per la rimessa in gioco. Si fa vedere il Genovese. Ecco per lui il pallone. Stop di petto. Mette la palla a terra il guizzante numero dieci. E poi il disimpegno difensivo ancora di Amadou. La palla che rimbalza a terra. La testa di Abdullai. Corpo a corpo con Diop. Ha commesso fallo il bianco rosso punizione già abbattuta. Capitan russo all'impostazione. C'è spazio a sinistra per l'indelicato che riceve. Serve Genovese. Ottimo l'anticipo di Amadou ancora in fallo laterale. Altra rimessa a favore degli ospiti. Sempre indelicato. La sponda tentata da Maimone. Ma l'anticipo di Navanzino fa canavola la palla fuori. Attenzione a questo intervento ancora di guerriera. Ancora Maimone che la mette a limitare la testa di Randis. E poi il fallo. Attenzione. È stato commesso di fatto da Genovese. In gioco pericoloso c'è un duro faccia a faccia tra Genovese e credo il difensore. Il difensore Giarratana che è stato credo ammonito per questa reazione. Vediamo un po'. Non ho visto benissimo. No, non c'è stata alcuna sanzione disciplinare. L'arbitro ha sedato gli animi opportunamente assegnando calcio di munizione al Galtagirone. Nulla di fatto. Dodicesimo in questo momento. Sempre 0-0 tra Galtagirone e Biancavilla. Batte Polessi. Lungo verso la tre quarti. Sfiora Sussò. Libera Chiavaro. Recupera Ruscica. Lancia a sinistra per lo scatto di Floridia. Floridia mantiene la palla in campo in posizione alla sinistra. Controllato da Parisi. Lo punta. Va in dribbling. Entra in aria. Parte il cross. Si avventa sulla palla. Alma viene anticipato ancora da Parisi che ha recuperato la posizione. Poi disimpegna. Rimpallo che favorisce Floridia che finisce a terra. È azione regolare di Celabria che lascia per seguire il gioco. Recupera palla a Russo. La ripartenza adesso veloce tentata al Biancavilla. Ottimo l'anticipo di Amadou. Amadou può puntare all'avversario. Amadou non c'è intesa con Alma e regala palla agli avversari. Riparte il Biancavilla. Velocissimo con Guerriera. Guerriera rincorso. In qualche modo disturbato da Susso. Ma tengono palla quelli del Biancavilla. Con l'apertura a destra su Caruso. Parte il traversone. La testa a mettere fuori di Gianratana. Quindi Alma lascia in base alla palla a terra. La serve per Amadou. La controlla bella. Il numero due. Ottimo la giocata di Amadou che alza la testa. Guarda lo scrivimento dei compagni. Cerca di farla passare ma la impatta. Molto bene, indelicato. Riconquista palla il Biancavilla. Non c'è tregua in questa frazione di gioco. Il lancio a sinistra raggiunge Genovese. Genovese va in dribbling a rientrare. Salta due versari pericolosamente anche Italiano che commette fallo e c'è calcio di punizione. Anzi no, anzi no. Simulazione, simulazione di Genovese. Non lo aveva di fatto toccato Italiano. Aveva ingannato di fatto anche noi. E quindi l'arbitro la segna di... In realtà calcio di punizione a favore del Caltagirone. E' sicuramente molto rapido, veloce, bravo nel dribbling, quindi nel gioco stretto il numero 10 Genovese del Biancavilla. Ma stavolta aveva dato l'impressione di essere riuscito a saltare in dribbling italiano che in realtà non aveva commesso alcun fallo. Quattordicesimo. Il sinistro di Polessi. Il controllo di Navanzino. Il palleggio. Ruscica. Subito lancio a memoria ma non era in quella zona florida facile la parata di Pappalardo. Parisi. Temperatura sempre più gelida. Diop. Indelicato. Maimone lo ferma bene. Alma deviando in out. Ancora Diop da questa parte della rimessa. Indelicato ferma il pallone. Si va a cacciare nella rete dei difensori ma attenzione vince questo contrasto Genovese che velocissimo come sempre si invola verso l'area avversaria. Lo contrae Ruscica. Mantiene in possesso palla il numero 10. Stavolta però ha subito fallo Genovese. Lo ha commesso italiano e c'è calcio di munizione a favore del Biancavilla proprio al limite dell'area di rigore sul lato corto alla sinistra rispetto all'attacco giallo-blu. E avanzano come dire i poderosi difensori centrali del Biancavilla. In occasione di questo piazzato a favore della formazione ospite stiamo ovviamente parlando di Parisi e Diop. Gran lavoro per i difensori centrali del Caltagirone che li tengono di guardia. Sto parlando di Buttiglieri e Italiano parte la traversone. Ci arriva a mettere la punta delle dita. Attenzione il sinistro di Parisi che la mette in mezzo. Poi allontana Abdoulaye. Perfessione il disimpegno Buttiglieri. La palla che rimbalza a terra. La controlla con calma Chiavaro. Braccato. Attenzione gli ruba palla. Il fallo di Chiavaro. Ma l'arbitro vediamo un po' cosa decide. Assegna. Semplice rimesa laterale a favore del Caltagirone. Ha rischiato qui moltissimo. Il forte centrale difensivo del Biancavilla. Chiavaro prontamente attaccato in contemporanea da Navanzino e Floridia. Che per un non niente non gli hanno rubato il pallone. Che poi appunto il centrale difensivo ha messo fuori. Rimessa effettuata in questo momento da Buttiglieri. Palla lunga. Aggancia. Bene. A Dulay. Ma non trova l'intervento di un compagno. Ma attenzione a restare da quel calzagirone con Buttiglieri. In posizione alla sinistra. Attaccato da Guerrier. Ancora Buttiglieri cerca il varco per un traversone. Alla fine di fatto si trascina la palla fuori. Si alza la bandierina. C'è rimessa a favore del Biancavilla. Sembra essere sempre più in bilico il risultato qui al pino buongiorno di Caltagirone. Tra le due squadre. Fino a questo momento il team guidato da mister Boncompagni sta tenendo testa al forte Biancavilla. Il desto alla distanza. Floridia. E il gol. Gol. Gran gol di Giorgio Floridia. Caltagirone in vantaggio. Al diciassettesimo. Il primo tiro di Enrico Ruscica. Agganciato dall'attaccante numero 11. Che proprio poco fuori l'area di rigore. Si coordina come meglio non avrebbe potuto. E insacca la sinistra di Pappalardo. Caltagirone 1. Biancavilla 0. Gol di Floridia. E possiamo tranquillamente dire che il ritorno da titolare in formazione dell'attaccante numero 11 Floridia meglio non poteva andare vista anche la fattura tecnica del gol realizzato. E adesso sarà un Biancavilla all'arrembaggio. Diop indelicato. Rimpallo. Ottimo la sponda di Abdoulaye. Il lancio di Ruscica lo scatto di Navanzino. E in anticipo Diop. Ma Navanzino alla meglio. Poi viene imbrigliato. Ci mette qui in una pezza con tutto il suo mestiere. Chiavaro. Disimpegno di Indelicato. Al volo italiano. Con palla direttamente dalle nostre parti. E rimessa a favore della formazione giallo-blu. Ecco subito sfiedito un altro pallone in campo. Indelicato pronto sul punto di battuta. Deve essere rimessa laterale. Indirizza su Genovese. Che stoppa di petto. Mette a terra. Braccato da Alma. Si rifugia su Chiavaro. Lungo lancio verso l'area avversaria. L'anticipo di testa di Gian Ratana. L'intervento di Ruscica elegante. Lo stop di Floridia. L'intervento in gioco pericoloso. Evidentissimo di Parisi. Prontamente fermato all'arbitro. Che assegna calcio di punizione a favore del Caltagirone. Vediamo che mister Tommaso Napoli. Corre ancora ai ripari in termini di sostituzione. Esce Capitan Russo. Vediamo un po' qual è il giocatore che entra in campo. Vediamo se si gira. Eccolo qua. E' il numero 18. Savanarola. Dunque di fatto entra un attaccante al posto di un centrocampista. Ripetiamo. Savanarola al posto di Russo. Intanto il laggiore è la zona di Abdoulaye. Lascia rimbrazzare il palone a terra. Lo mantiene in campo molto bene. Cerca di servirlo su Floride. Floride combatte con Caruso. Alla meglio il numero 11 Calatino. Poi il ritorno di Caruso che gli ruba a palla. Dunque recupera palla la formazione vice capolista. Chiara è sbagliata a sinistra. L'anticipo preciso di testa di Amadou. Il controllo di Navanzino che sopra il pallone. Ergal valizzata la formazione biancorossa. Rimpalo che favorisce Sussò. Apertura a destra che non passa. Batti ribatti. Colpo di testa di Roushica. Quindi ancora Navanzino. Spalaporte. Va in tribbling. Salto di avversari. Ancora Navanzino. Ancora raddoppio di marcatura. Si allarga sulla destra. Mantiene il possesso della palla. Il numero 7 Biancorosso. Navanzino. Serie di Funambolici. Dribbling. Deviazione di Delicato in fallo laterale. E dunque rimessa in attacco a favore del Caltagirone. Ovviamente ha preso tanto coraggio la formazione di Mr. Boncompagni. Rimessa in dato affietuata. Ancora Navanzino. Va al palleggio fra due avversari. Mantiene il possesso della palla. Sempre gioca come preferisce fare il numero 7. Poi attenzione. Finisce a terra. Ma dove parte il cross? Non ci arriva Floridia. Branca in presa. Sicura. Pappalardo. Che l'ha già rimessa in gioco. Per la ripartenza veloce di Guerriera. Apertura a destra per il solito inserimento di Caruso. Caruso controllato a vista da Suso. Che lo ferma molto bene. La palla recuperata da Floridia. Contropiede del Caltagirone. Floridia si porta ai 30 metri. Floridia. Floridia ancora per Abdullai. Che incespica sulla palla. Che dunque viene recuperata da Indelicato. Poi comenta il fallo l'attaccante Calatino. E l'arbitro comanda calcio di punizione a favore del Caltagirone. E il gioco è diventato veramente frizzante. Piacevole. Tutto a beneficio dello spettacolo. Dopo che ovviamente il Caltagirone è passato in vantaggio. Adesso sono saltati un po' alcuni schemi. Ci sono più spazi per diversi giocatori che tentano di sfruttarli in velocità. Ma attenzione alle possessione giallo-blu. Con questa apertura di Maimono. Il Guizzen da Genovese. Genovese si porta ai 20 metri. Il servizio raggiunge a Randis. Attaccato da Suso. Viene fermato. L'attenzione rimbala. Finisce Maimone. Alma ci mette una pezza. Ottima. La difesa di Alma. Il lancio non passa. Lo aggancia Diop. Resta dunque il possesso palla. La formazione vicecapolista. Lo scambio con Chiavaro. Quindi il servizio che raggiunge Maimone. Maimone ha uno spazio. Lo uovo cerca di sfruttare. Il servizio sinistra per la corrente genovese. Troppo spazio per il genovese che entra pericolosamente in aria. Finisce a terra. Non c'è fallo dice l'arbitro. Quindi Amadou perfezione. Nel disimpegno deviando la palla in fallo laterale. Rimesso attenzione l'attacco a favore della formazione. Ospite. Il lancio che raggiunge Randis. La sponda all'indietro. Ma attenzione era finito. Al di là dei difensori. l'attaccante Randis. Attenzione c'è un duro faccio a faccia con italiano Ammonito Randis. Ammonito Randis. Si è ottenuto bene i conti. Fino mi suggerisce Giuseppe Zago. Opportunamente è stato Ammonito il nuovo entrato Savanarola. Fino a questo momento si è ottenuto bene i conti. Quattro i cartellini gialli estratti dal signor Singh di Macerata che ha Ammonito Caruso, Strano e Savanarola per il Biancavilla. Mentre Abdullai del Caltagirone. Pronto per questa rimessa da fondocampo. Mentre vediamo che il mister Boncompagna effettua la prima sostituzione. Esce Navanzino. Entra Giacquinta. Non cambia nulla. Dunque, tatticamente, un attaccante al posto di un altro. Polessi. Palla a centrocampo. La testa di Giacquinta che tocca il suo primo pallone. Diop lo intercetta. Quindi il tocco di Genovese che mantiene la palla in capa. Attenzione a Randis che tiene bene la palla. Poi la chiusura precisa di Amadou che si rifugge in fallo laterale. Ancora una volta arriva in attacco a favore del Biancavilla. Si va a portare velocemente sul punto di battuta. Il solito indelicato. In dirizza su Randis che fa una buona sponda per la corrente guerriera. Parte la traversone in aria. La testa di Butiere liberare. Lo stop di Floridia. Elegante. Mette la palla a terra. Va in dribbic. Salta Parisi. Mantiene in possesso la palla. E ora in servizio per Sussò. Gespasio per Sussò. Può sganciare la sua falcata. Tenta un passaggio che non passa di fatto. La palla viene intercettata. Qui chiudono molto bene i difensori del Biancavilla. Parisi nuovamente all'impostazione. Guerriera. Caruso Parisi. Guerriera. Attaccato da Ruscica. Parisi Chiamaro. Quindi Maimone. Parte la sventagliata in avanti. Il controllo di Savanarola. Maimone. Cerca lo scambio con un compagno. Ripallo che forisce Gioradana che rilancia lungo in avanti. È un po' arretrato qui Abdoulaye. Può facilmente controllare Chiavaro. Diop. Guerriera. Verso il limite avversario. La testa di Italiano a mettere fuori ma attenzione la palla è intercettata da Savanarola che carica il destra. Non inquadra la porta. La palla è a fondo campo. Azione comunque pericolosa del Biancavilla. Occhia dal cronometro. Scocca. In questo momento il venticinquesimo del secondo tempo. Caltagirone 1. Biancavilla 0. Al diciassettesimo il gran gol di Giorgio Floridia. Davide Floridia. Pardon. Polessi per questa rimessa da fondo campo. Palla nella zona del neoentrato Giacquinta che non riesce a mantenerla in campo. Rimessa già effettuata. Diop. Guerriera va in dribbling. Indelicato. Guerriera. Guerriera si accentra. Parte il lancio in aria. Aveva suggerito il passaggio Caruso. E Polessi difende la rimessa da fondo campo a favore del Caltagirone. Mente. Alza le braccia. Larga le braccia. Sconsolato Mr. Napoli. Ancora il sinistro di Polessi per la rimessa in gioco. Centrocampo la testa di Ruscica. Ancora Ruscica ma lo anticipa Maimone che subisce la carica del capitano Calatino. Punizione già abbattuta. Parisi. Caruso. La gioca bene su Guerriera. Ancora Caruso. Ottimamente servito. Ogni posizionato da destra. Porta palla il numero due. Lo va a chiudere. Gaggiatana la palla che passa al limite. La mette in fallo laterale. Ruscica. Rimessa l'attacco dunque a favore dei giallo-blu. Già effettuata da Caruso. Lo stopo di petto preciso di Guerriera. Controllato da Floridia. Quindi Savanarola indietro per Parisi. Parta il traversone in aria. Il colpo di testa di Diop direttamente a fondocampo. Dunque attaccante aggiunto in questa circostanza il forte centrale difensivo del Biancavilla che ha trovato la palla ma non la porta. Ancora Polessi per la rimessa da fondocampo. Mentre vediamo che il mister Boncompagni effettua un'altra sostituzione. Esce dal retangolo di gioco Buttiglieri. Il difensore Buttiglieri ed entra, se non erro, Andrea Secondo. Che si va a mettere nella stessa posizione sinora occupata da Buttiglieri. Quindi ribadiamo secondo per Buttiglieri. Polessi a centrocampo. La testa di Sussò. Polone che si impenna. Carambola sulla schiena di Abdoulaye. Poi contro la Floridia. Ottimo il suo gioco per il servizio. Su Abdoulaye. Abdoulaye cerca il Varco ma lo ferma molto bene Caruso. Poi cerca una sorta di tiro cross Sussò che blocca senza grosse difficoltà. Pappalardo che ha già rimesso in gioco. Riparte l'azione del Biancavilla. Attenzione. Sbagliate però il passaggio stavolta indelicato. Lo ferma Abdoulaye. Floridia. Alma. Floridia ancora. Con calma. Mantiene in posizione sulla palla il numero 11. Lo attacca però felicemente Maimoni che gli sradica il pallone dai piedi. Diop. La gioca su Savanarola. che viene fermato in out da secondo che dunque tocca il suo primo pallone in questa partita. Anzi no. Era stato fallo. Punizione già battuta. La sponda. Intercettata da Ruscica. Gli riesce a servire Floridia. Floridia il piccolo trotto. Verso la trecolti avversaria. Gli esce. No. Lo fermano di fatto. Parisi. Maimone. Genovese. Ancora azione d'attacco del Biancavilla. Maimone sventagliata a destra per lo smarcato Caruso. Va a chiudere il neo entrato secondo. Serie di finte di Caruso. La gioca bene su Guerriera. Guerriera salta su So. Serve a destra ancora. Il compagno che effettua questo traversone è deviato in corner. Calcio d'angolo numero tre a favore del Biancavilla. Dalla lunetta Savanarola. Anzi no. Poi lascia il compito a Maimone. Ci avviciniamo alla mezz'ora. Ancora apprezzione in area di rigore del Caltagirone. Parte il traversone a centro aria. La palla pericolosamente è lì. E gol. Il gol. Credo di Savanarola. E manco a dirlo per l'ennesima volta su calcio d'angolo. Palla inattiva. Il Caltagirone subisce gol. Si lamenta Polessi con i propri compagni ma la palla è entrata in rete. Dunque sulla battuta del corner effettuata lo ricordo dal giocatore Maimone Savanarola proprio sulla linea di porta trova il pallone e lo insacca per il pareggio che dunque arriva esattamente al trentesimo. Nuovo parziale qui al Pino Buongiorno Caltagirone 1 Bianca Villa 1 Mentre vediamo che mister buon compagni effetto un'altra sostituzione sta uscendo Floridia pronto ad entrare c'è Mario Messina ma anche un altro giocatore vediamo un po' chi sta uscendo esce Alma ed entra credo Conti e dunque stava assaporando la possibilità insomma di conquistare l'intera posta in palio la formazione di mister buon compagni ma ancora una volta su calcio d'angolo incredibilmente il Caltagirone subisce gol attenzione a Ruscica che perde palla a centrocampo lo riconquista il pallone Maimone servito adesso da Chiavaro ancora Chiavaro adesso ha trovato energie mentali il Biancavilla e subentra la solita paura tra i biancorossi Amadou la gioca bene su Giarratana il lancio prende il controtempo Xusso ancora in attacco il Biancavilla il traversone di Caruso la palla al limite la sponda all'indietro per l'inserimento di Maimone Maimone favorito un rimpallo chiama in causa ancora Savanarola che scatta verso il fondo parte il traversone e poi impattato da secondo che si rifugia in corner calcio d'angolo numero 4 a favore del Biancavilla sempre dalla lunetta come in precedenza Maimone sempre a prensione in area di rigore del Caltagirone per la retroguardia biancorossa parte il traversone con i pugni ci arriva stavolta e poi in saccata battuta Messina mette la palla fuori nella zona di Giacquinta messo a terra in malo modo scontratosi con il giocatore Caruso l'arbitro assegna punizione a favore del Caltagirone ma rimane a terra dolorante Giacquinta la spintagliata sinistra della zona di Susso che non raggiunge la palla c'è rimessa a favore del Biancavilla pronto Caruso lancia nella zona di Savanarola lo ferma Ruscica la sua volta fermato rimpallo che favorisce Randis quindi controattacco del Biancavilla con Maimone che mette ordine alla manovra Guerriera apertura a destra per lo smarcato Caruso Caruso adesso controllato secondo Caruso la gioca corta bene su Guerriera Guerriera entra in area parte il traversone sotto misura attraversato lo specchio della porta secondo anzi Genovese e poi in parata plastica Polessi salva la situazione ma Biancavilla ancora pericolosissimo tutto questo allo scoccare del 34esimo Calta Girone 1 Biancavilla 1 Lancia la zona di Suso che riesce a sfiorare di testa la palla però è controllata da Parisi che guadagna che difende la rimessa laterale Chiavaro la testa di Giordana ripallo che però favorisce Savanarola Savanarola con calma ha il tempo di poter guardare lo schieramento dei propri compagni nessuno lo disturba in maniera diciamo convincente quindi indelicato la gioca bene su Genovese ottimo l'anticipo in out di Amadur rimessa già effettuata ancora Maimone Diop Chiavaro Diop a pieno organico la formazione di Napoli sulla trequartia avversaria Diop pressato da Messina riparte dall'estremo difensore Pappalardo che di prima rilancia verso la trequartia il controllo buono di Maimone l'intervento di Ruscica poi si ora il pallone già da quinta si impegna ma non può di fatto mantenere la palla in campo la rimessa è a favore dei giallo-blu già effettuata Diop quindi Chiavaro Parisi Guerriera la sponda di Savanarola toccato duro da Andrea Secondo c'è cartellino giallo per il difensore Galatino gioco che ovviamente riprendono il calcio di munizione a favore del Biancavilla occhia dal cronometro sono 35 e mezzo i minuti in questo secondo tempo 1-1 tra Caltagirone e Biancavilla gol pareggio su calcio d'angolo di Savanarola giocata su Guerriera la palla è l'utile intervento di Abdullai poi si fa male Guerriera finisce a terra vediamo un po' ma sportivamente il capitano Calatino lo mette la palla fuori l'arbitro però ammonisce Maimone credo per proteste rifacciamo la conta dei cartellini che adesso sono esattamente 6-4 all'indirizzo di giocatori del Biancavilla 2 per quelli del Caltagirone sportivamente il Biancavilla risiedisce palla agli avversari secondo però sbaglia attenzione il passaggio regalando palla agli avversari che dunque restano sulla tre quarti avversaria Maimone controllato a vista da Messina si riparte però da Diop sventagliato a destra nella zona di Caruso stop di petto a seguire mantiene la palla in campo il numero 2 che ha giocato sicuramente un'ottima partita quindi Savanarola guerriera toccato duro Savanarola scaventato a terra da Sussò calcio di punizione ancora a favore dei gialloblu che restano costantemente sulla tre quarti avversaria il lancio attenzione la palla messa pericolosamente in mezzo all'aria la mette fuori Italiano che sbriglia la situazione rimpello che pulisce attenzione Sussò lo scatto di Abdullai uno contro uno è in anticipo Chiavaro ma attenzione potrebbe essere questo ritenuto un passaggio volontario che l'arbitro non sanziona intanto a centrocampo recupera palla Amadou servito da Conti Amadou ottima la sua giocata porta palla il numero 2 la dà in mezzo all'aria va a chiudere con ottima scelta di tempo Chiavaro che si rifoggia in corner calcio d'angolo numero 2 a favore del Calta Girona è un po' dobbio quell'intervento di coscia effettuato da Chiavaro che ha servito Pappalardo direi in maniera intenzionale ma il portiere che ha preso il pallone con le mani attenzione intanto al traversone sul primo palo mette fuori indelicato la palla fermata molto bene da Conti il cross di Messina sul secondo palo non ci sono compagni è la palla che si spegne in fallo laterale buona la giocata in termini di cross effettuata da Messina ma non ha sortito effetti ancora Chiavaro a scaraventare lungo verso la trequarte avversaria c'è lo scatto di Randis controllato da Gioratana ma si alza la bandirina il numero 16 l'ha finito al di là della linea di difensore dunque in fuori gioco mentre vediamo che mister Napoli effettua un'altra sostituzione è la quarta che il tecnico gialloblu opera in questo match entra con la casacca numero 13 Faro Faro che ha preso il posto di guerriera tutto questo al trentanovesimo del secondo tempo sempre uno a uno tra Calta Girone e Biancavilla ecco pronto italiano per la battuta di questo calcio di punizione lanciata lunga la palla verso la trequarte avversaria nella zona di Susso il colpo di testa in anticipo del neo entrato Faro l'intervento di Abdoulaye la palla è per Susso ma si alza la bandirina si continua a giocare l'arbitro si avvede adesso della segnalazione effettuata dall'assistente e comanda calcio di punizione già battuto dal Biancavilla a destra il servizio raggiunge ancora Chiavaro la palla finita fuori rimessa già effettuata su Caruso Caruso corpo a corpo con secondo commette fallo stavolta il numero due ospite punizione a favore del Calta Girone ancora prodico di indicazioni verso i propri giocatori mister buon compagni che devono ovviamente tenere duro per questi cinque minuti più recupero per guadagnare un punto preziosissimo parte il traversone a destra il controllo di Conti elegante Conti punta l'avversario serie di finte il suo passaggio viene deviato in out ancora Conti per la rimessa bianco rossa che poi cede alla corrente Amadou che verosimilmente lancerà a lungo verso l'area avversaria si fa vedere capire la riuscica eccolo servito il numero dieci sopra il pallone lo mette a terra parte il traversone a mezza altezza facilmente controllato da Chiavaro che la gioca bene su Savanarola tecla è scivolato di Giacuita attenzione al controattacco pericoloso e veloce del Biancavilla fermato da Messina ma rimpallo che favorisce gli ospiti ancora Caruso servito da Chiavaro il cross al limite fermato da Sussò e poi in seconda battuta alza questo campanile secondo l'intervento di Chiavaro in anticipo sull'avversario che è conservito Germese Germese al sempre piccolo trotto entra in apri costamente la palla sotto misura questa volta una pezza opportunamente Capitan Ruscica che si rifugia in corner gaccio angolo numero 5 a favore del Biancavilla pronto dalla lunetta c'è Maimone come sempre parte il traversone attraversa tutta l'area piccola la palla messa fuori da Messina la intercetta Amadou che la scodella verso la metacampo ma resta in possesso la palla la formazione Giallauru che va all'impostazione col nuovo entrato Faro Faro al piccolo trotto cerca un varco per trovare il traversone lo ferma molto bene Abdullai quindi Susso appoggia su Capitan Ruscica il lancio per lo scatto di Giacquinta troppo profondo si lamenta qui l'attaccante Calatino per l'imprecisione del passaggio e l'azione sfuma rimessa a favore del Biancavilla scocca il 42esimo 3 minuti più recupero alla fine Parisi ecco servito da questa parte il solito indelicato quindi Maimone a trazione integrale attenzione offensiva la formazione di mister Napoli in questo finale di match Maimone a destra per il solito Caruso Savanarola Savanarola attaccato fallosamente anzi no dice l'arbitro da Susso attenzione è regolare la posizione di Abdullai Abdullai però è costretto a decentrarsi sulla sinistra si avventa sulla palla e finisce a terra e può recuperare facilmente Chiavaro che la dà bene su Maimone altra azione offensiva del Biancavilla parte il lancio il rompe Abdullai anzi scusate Amadu ottima la sua intercettazione poi Ruscica cerca di lanciare lo scatto di Giacquinta troppo profondo il passaggio facile l'intervento in uscita di Vapalardo nuova azione impostata dalla formazione giallo-blu di servizio che raggiunge Maimone apertura a destra per l'inserimento di Faro che non raggiunge la palla e c'è rimessa a favore del Caltagirone quarantatresimo secondo Parisi a lanciare in avanti la sponda il tiro dai 30 metri tentato da Maimone che dà forza ma non precisione palla a fondo campo la rimessa dal fondo affidata come sempre a Nicola Polessi molto nervosi i due tecnici nelle rispettive banchine a dare continue indicazioni alle proprie formazioni ovviamente il Biancavilla trovato il gol pareggio crede ancora nella possibilità di vincere la partita e ovviamente sta cercando di difendere il pareggio il Caltagirone ma attenzione a questa incursione offesiva ancora di Genovese scaraventato a terra in malo modo da italiano cartellino giallo per il numero 5 Calatino e punizione a favore del Biancavilla terzo Biancorosso che dunque finisce nel taccuino del direttore di gara che ricordo il signor Singh di Macerata ma altra palla piazzata altra apprezzione all'interno dell'area di rigore Biancorossa per la formazione di casa sul punto di battuta c'è Savanarola che sembrerebbe intenzionato a battere direttamente verso la porta difesa da Nicola Polessi tre uomini in barriera che rispettano la giusta posizione secondo le indicazioni del portiere Calatino attenzione al destro di Savanarola pericoloso secondo palo lo mette fuori secondo la palla rincorsa è recuperata da Faro Faro la mantiene in campo poi si va a sovrapporre in ostacolo 4-5 forse sono 5 se ho visto bene 5 minuti di recupero è infatti scoccato in questo momento il novantesimo intanto altra sostituzione entra Diavara che fa di fatto il suo esordio in questo campionato proprio nel minutaggio di recupero di questa partita prendendo il posto di Abdullai dunque Diavara per Abdullai si giocherà fino al novantacinquesimo Galtagirone 1 Biancavilla 1 c'è rimessa giallo-blu effettuata in questo momento a beneficio del solito Maimone Maimone attaccato raddoppiato e fermato molto bene da Capitan Ruscica che la gioca a raso terra molto bene per Diavara che do lo calperlone contro piede del Cartagirone attenzione arriva Conti recupera posizione parte il tiro da distanza ma non si fa sorprendere Pappalardo che blocca la sfera è stata comunque brava qui la retroguardia del Biancavilla a recuperare metri importanti all'indietro attenzione a questo disimpegno colpo di testa di Sussò quest'altro di Savanarola ancora Sussò la stoppa di Petto Messina che anticipa l'avversario poi l'anticipo preciso di Parisi su Caruso parte il lancio la sponda a beneficio di Randis attenzione carica il destro Randis è centrale blocca a terra ma attenzione c'è a terra anche un giocatore protesta dei Biancrossi a riguardo del territorio di gara un giocatore del Cartagirone a terra credo colpito da un avversario non so se volontariamente o involontariamente a palla lontana si trattava di fatto di un fallo non sanzionato dall'arbitro non c'era stato infatti nessun contatto volontario ma il pubblico presente qui al primo buongiorno protesta perché ha peccato di non sportività la formazione ospite che forse avrebbe potuto mettere la palla fuori ad ogni buon conto il gioco riprende con questa rimesa a favore del Biancavilla che adesso sportivamente restituisce la palla agli avversari 47 primi 30 secondi due minuti e mezzo alla fine di contropasso rianzo lungo Polessi il controllo di Diavara la gioca bene il tiro all'incosta la palla lì Diavara incredibilmente non la trova e sia pure in affanno per il si spazza la palla recuperata adesso da Ruscica il contro cross la palla che finisce a fondo campo crossata da Conti non c'è fallo dice l'arbitro era finito a terra su su e il gioco dunque riprende questa dimessa da fondo campo a farò del Biancavilla ha rischiato di andare in rete la formazione Biancorosso rilancio dato a metà campo fermato da Amadou che viene però anticipato attenzione da Randis Randis guadagna il limite di avversario si ferma attende rinforzi li trova in Maimone ma ottimo il recupero di Messina quindi su su la gioca ancora su Diaverà Diaverà porta palla sulla tre quarti avversaria ma si fa anticipare da Maimone rilancio di Pappalardo ancora Maimone la gioca su Chiavaro tutta in avanti si sono rotti tutti gli schemi tattici quindi il passaggio di Randis che non passa per la punto fermato molto bene da Italiano rimette in gioco il pallone indelicato il pallone ancora per Randis taglia scivolato di Conti che si rifugia in fallo laterale rimessa anzi era stato già quinta a mettere la palla in fallo laterale ancora formazione giallo blu al possesso palla lungo lancio di Parisi verso il limite avversario colpo di testa di Sosol Polona che si impenna il controllo di Randis Maimone la mette in aria la sfiora secondo e dunque concede il calcio d'angolo ancora a favore del Biancavilla 49 primi 20 secondi potrebbe essere questa l'ultima azione di una partita veramente emozionante soprattutto nel corso della ripresa quando il calcio di girone era passato in vantaggio per essere raggiunto proprio su un calcio d'angolo attenzione il cross sul primo palo la palla che passa e poi finisce a fondo campo l'arbitro dice che è ancora corner a favore del Biancavilla è il calcio d'angolo numero 6 dunque si continua a giocare mancano 10 secondi parte il traversone la palla lì sotto misura e la palla in gol è incredibile è incredibile all'ultimo secondo il Biancavilla passa in vantaggio ha segnato se non erro Randis gol fotocopia col quale avevano pareggiato Randis dopo quello di Savanarola regala i tre punti al forte Biancavilla che francamente non aveva più di tanto meritato questa vittoria ma la regola numero uno del calcio è questa vince chi fa un gol in più è il Biancavilla c'è riuscito all'ultimo secondo al novantacinquesimo gol raddoppio ribadiamo di Randis è un male cronico quello della difesa in occasione dei calci piazzati parliamo ovviamente della Caltagirone che puntualmente tutte le partite in tutte le partite prende gol anche oggi due volte il secondo assolutamente fatale regala la vittoria anche se ancora si continua a giocare ma arriva il triplice fischio del signor Singh ribadiamo l'ordine delle marcature gentili ascoltatori era passato in vantaggio il calci piazzati con un euro gol un bel gol al diciassettesimo di questa ripresa di Floridia mentre vediamo che mister Boncompagni si va a lamentare con il direttore di gara l'arbitro facendo segno che la partita era già finita nel senso che i cinque minuti di recupero erano già conclusi ma ciò malgrado il signor Singh ha fatto battere il conseguente calcio d'angolo sul precedente quando la palla era stata rimessa a fondo campo quindi dicevamo del gol vantaggio biancorosso al diciassettesimo con palla recuperata al limite dell'aria da Floridia bravissimo a trovare il palo più lontano alla sinistra di Pappalardo poi il pareggio che arrivava dopo tredici minuti alla mezz'ora sugli sviluppi di un corner ben abbattuto da Maimone sempre molto vicino alla porta dove il più lesto era Savanarola che metteva alle spalle di Polessi e dunque al novantacinquesimo già passato dopo cinque minuti abbondanti di recupero ancora su calcio d'angolo il più lesto di tutti era Randis a insaccare il gol del 2-1 che vale tre punti importantissimi nella lotta al vertice per i giallo-blu di mister Tommaso Napoli polemiche ovviamente delusione amarezza tra i tifosi del Caltagirone che si sentivano il punticino in tasca per non parlare insomma della intera posta in palio per come si era messa la partita grazie al vantaggio di Floridia ma il calcio è bello o se volete brutto anche per questo può essere stravolto un risultato da un momento all'altro è tutto dal primo buongiorno di Caltagirone Caltagirone 1 Biancavilla 2 la linea torna allo studio ci sentiamo domenica prossima